ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi rosario moreno fondi lega ha fermato un uomo mentre stava scappando in Brasile indagati anche tre commercialisti del carroccio l'uomo fermato si chiama luca sostegni ed è accusato di peculato e di estorsione perché avrebbe chiesto soldi ad altre persone in cambio del suo silenzio su questa vicenda del fermo ha dato conto il procuratore francesco greco con una nota nella quale spiega che i reati contestati a sostegni sono legati alla vendita di un capannone industriale ubicato nel comune di cormano intervenuta tra l'immobiliare andromeda e la fondazione lombardia film commission l'immobile era stato venduto alla società della regione all'epoca presieduto da diruba uno dei commercialisti del carroccio per 800 mila euro mentre secondo gli inquirenti valeva la metà autostrada insomma gli scenari per l'uscita dell'uscita dei benetton dal nuovo assetto alla quotazione e perché dopo l'annuncio il titolo di atlantia è salito insomma una certezza e i benetton cederanno il controllo di autostrade dopo 20 anni appunto la rete va in mano pubblica un'incognita quanti soldi incasseranno alla fine benetton in questo punto interrogativo c'è la risposta alla domanda insomma chi ha vinto sul piano finanziario bisogna attendere per dare risposte nette sul piano politico una vittoria il governo l'ha però già portata a casa dopo settimane di scontri e tensioni la maggioranza sembra aver trovato la quadratura del cerchio e si ricompatta in vista delle prossime non meno delicate sfide come mess recuperi fond la maratona notturna su autostrada è durata sei ore al termine il presidente del consiglio giuseppe conti ha parlato di qualcosa di assolutamente inedito nella storia della politica italiana coronavirus il rapporto is is that causa diretta di morte nel 89 per cento dei pazienti deceduti può rivelarsi fatale anche senza con cause lo studio si basa sulle informazioni riportate dai medici in 4942 schede di morte di persone positive solo per l'undici per cento il decesso è stato dovuto ad altre malattie associate al virus con cause più frequente sono invece la che le cardiopatie ipertensive nel 18 per cento dei decessi il diabete mellito nel 16 per cento le cardiopatie ischemiche nel 13 per cento e i tumori nel 12 per cento ma a rivela il rapporto non ci sono con cause nel 28,2 per cento dei decessi analizzati coronavirus nuovo record di contagi in usa oltre 67 mila in 24 ore francia scatta l'obbligo di mascherine nei locali pubblici brasile borsonaro borsonaro positivo al secondo test contagi ai massimi anche in israele dove netanyahu è pronto a imporre nuove restrizioni per affrontare la seconda ondata nel paese in india in argentina anche in sudafrica superati 300 mila casi in russia i 750 mila violenza sessuale a milano donna aggredita mentre portava il cane al parco lo stupro è avvenuto in pieno pomeriggio al monte stella nella zona nord ovest del capoluogo del capoluogo rombardo indagini della squadra mobile sono in corso la vittima è stata trasportata in codice giallo alla clinica mangiagalli del policlinico notizie da treviso e dal veneto grandina scatta il mojito in agridurismo in inglese si dice che la vita ti dà limoni beh allora fatti una limonata e si ti dà ghiaccio come con la grandinata di sabato ecco la base per un bel mojito l'ha fatto alessio rec dell'agridurismo nonna maria di monte belluna monsignor adriano cevolotto il nuovo vescovo di piacenza insomma oggi in cattedrale durante la breve in breve incontro di preghiera è stato annunciata la nomina del nuovo vescovo di piacenza bobbio in contemporanea con la sala stampa vaticana a Oderzo la malattia attacca i vigneti persa fino a metà produzione si tratta della flavescenza dorata che alla lunga uccide addirittura e la pianta i sopralluoghi di condifesa in una trentina di aziende per la stima dei danni lavori pubblici in ritardo nella Lega scoppia il cazzo zampese treviso fibrillazione sui cantieri da tosse dice tutto incompiuto si acceleri e poi l'affondo di gentilini che dice era più adatta all'urbanistica che ai lavori pubblici ma conte lo blinda bangonote false per 41 milioni di euro nei quai anche un coneglianese tagli da 50 e 100 euro oltre 70 indagati di cui 44 gli arresti domiciliari tra questi Giovanni Bianco e due veneziani i provvedimenti sono stati presi dalla procura di Benevento notizie dal Friuli Venezia Giulia due morti sul lavoro in cinque giorni all'arma sicurezza dopo la tragedia dell'interporto di Pordenone e oggi un nuovo decesso di un giovane operaio a San Daniele in quella che doveva essere una giornata importante per il futuro appunto dell'azienda con la presentazione del nuovo piano industriale ci troviamo a dover commentare una notizia tragica che ci lascia scioccati e senza parole mettendo tutto il resto in secondo piano queste le parole della segreteria della Flai CGL di Udine Michela Martin dopo l'incontro con il presidente del consiglio di amministrazione della principe di San Daniele S.P.A. Pietro Galbiati originariamente convocato per la presentazione del nuovo piano industriale ai sindacati previsti scontro con un camion auto si cappotta lungo la Monte Bane incidente intorno alle 12.30 a Codroipo nessuno è rimasto ferito in modo serio ma si sono formate lunghe code incidente intorno alle 12.30 lungo la statale 13 Ponte Bane nel territorio di Codroipo tra la rotonda di Coseat e il ponte della Delizia per cause in corso di accertamento si sono scontrati un camion che stava trasportando legname e una vettura che si è capottata nell'impatto Udine aggredite due guardie giurate in Borgo Stazione ieri sera l'ennesimo episodio di violenza la Polizia di Stato ha arrestato un pakistano che a inizio mese aveva colpito anche il consigliere Foramitti l'ennesimo episodio di violenza ieri sera in Borgo Stazione gli agenti della Questure di Udine hanno arrestato un cittadino pakistano 34enne che aveva aggredito e preso a pugni i due guardie giurate verso le 21.30 un esercente di via Roma aveva segnalato alle due guardie giurate uno straniero che stava rovesciando a terra tavolini e sedie di alcuni esercizi commerciali accortosi che i due lo seguivano l'uomo si è scagliato contro di loro per poi dileguarsi verso via Leopardi nuovo rintraccio di migranti a Udine prosegue il flusso della rotta balcanica una ventina di persone individuata mentre si spostava a piedi in città questa notte una ventina di migranti sono stati rintracciati a Udine si tratta per lo più di cittadini pakistani e afghani intercettati mentre si stavano spostando a piedi in città sono stati sottoposti all'identificazione e alle procedure sanitarie prima di essere trasferiti nei centri di accoglienza individuati per trascorrere la quarantena fiduciaria di 14 giorni Udine e pedone investito in Viale Europa Unita conseguenze non serie per un 64enne incidente anche a Collo Redo di Monte Albano dove un trattore è finito contro un palo incidente stradale nella prima serata di ieri a Udine in Viale Europa Unita vicino all'ufficio delle poste per causa in corso di accertamento il conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto ed è andato a collidere contro una macchina in sosta ha urtato accidentalmente un pedone che è finito a terra quest'ultimo nella caduta per fortuna ha riportato lesioni non gravi e agli arti inferiori bene cari amici con questo è tutto termina qui questa edizione della Rassegna Stampa in studio con voi Rosario Moreno buon proseguimento con la programmazione grazie a tutti